Come si forma il condizionale passato, il past conditional in inglese? Si forma con l'ausiliare would, poi utilizzeremo have e poi il participio passato del verbo. Vediamo la struttura della forma affermativa. Soggetto, would più have più participio passato più complementi. Ad esempio, Bob would have worked in London. Bob avrebbe lavorato a Londra. Posso fare anche la forma contratta, come in questo altro esempio, she'd have worked as a teacher. Sarebbe she would have worked as a teacher. Nella forma negativa abbiamo semplicemente che il not viene posto dopo il would e si può contrarre in wouldn't. Quindi la struttura è la seguente soggetto, wouldn't più have più participio passato più complementi. Ad esempio, Bob wouldn't have worked in London. Bob non avrebbe lavorato a Londra. Nella forma interrogativa abbiamo il would che si pone davanti al soggetto. Se la forma interrogativa è anche negativa, userò wouldn't davanti al soggetto. Dopodiché userò have e il participio passato e i complementi. Per esempio, would Bob have worked in London? Bob avrebbe lavorato a Londra. Negativa, wouldn't Bob have worked in London? Bob non avrebbe lavorato a Londra. Nelle riprese brevi, naturalmente, userò would e wouldn't, a seconda se sono affermative o negative, ricordando sempre di usare i pronomi personali riferiti al soggetto della domanda. In questo caso abbiamo Bob, quindi userò he. Se fosse stato Susan, wouldn't Susan have worked in London? Avrei usato she. Molte di queste frasi sono ascoltabili tramite i file audio presenti nelle tabelle e qui in fondo ci sono cinque esercizi per la comprensione dell'argomento.